Inizia oggi il fermo pesca fino all'8 ottobre con il blocco delle attività dei peschierecci, nella fascia da San Benedetto del Tronto a Termoli, mentre nella fascia da Trieste a Ancona il fermo biologico, iniziato a fine luglio, si interromperà il 10 settembre. A darne notizie è Coldiretti in presa pesca, sottolineando che in un paese come l'Italia, che importa più di due pesci su tre, con il fermo biologico aumenta il rischio di consumare, soprattutto nei ristoranti, prodotti stranieri o congelati. Il consiglio di Coldiretti è dunque di verificare sia la provenienza del pescato, sia il prezzo. L'etichetta per legge deve prevedere l'area di pesca. Le provenienze autorizzate sono quelle dalla Liguria alla Sicilia, del Marrionio occidentale, continuando con le zone del Golfo del Leon, Corsica e Malta. Ma in tanti fanno riferimento alle esperienze di filiera corta per la vendita del pescato che Coldiretti in presa pesca ha attivato attraverso la rete di Campagna Amica. Il consumatore può anche contare sul pesce proveniente dalle zone dove non è in atto il fermo pesca e dagli allevamenti nazionali. In questo periodo quindi il pesce arriverà maggiormente da paesi stranieri, mentre sarà consentita la pesca a piccole imbarcazioni che consentono il rifornimento di pesce fresco alle piccole pescherie locali. I commercianti già prevedono un aumento del prezzo al consumatore finale dovuto dall'arrivo dei pesce di importazione. Meno problemi per i ristoranti che si riforniscono da grossisti del settore con provenienza da Spagna, Grecia e Croazia. Coldiretti informa che dal 2018 si cambia, in quanto negli anni passati il fermo biologico è risultato fallimentare. L'auspicio è quello di mettere in campo un sistema che tenga realmente conto delle esigenze di pescatori, commercianti e consumatori e soprattutto delle esigenze di riproduzione delle specie.